Siamo sempre a Bagnos dell'acqua sagra, l'acqua santa e questo è il parque, non mi ricordo più come sia Flores Bagnos è molto turistica quindi se volete venire a Bagnos, a parte a fare il bagno Il suggerimento è di non venirci di sabato e di domenica, meno che non vogliate incontrare Ciccas o cose del genere No, sarete pieni di gente Questa forse è una delle cose più belle di Bagnos dopo la cascata che avete visto nel video precedente Ora me ne torno a parlare con Ruth, un israeliano con cui si può parlare, quindi attenzione Sono cose rare Perfetto, ciao a tutti